Como è la provincia lombarda con l'indice RT più alto, un dato che, inserito nel contesto di una regione epicentro della pandemia, risulta ancora più preoccupante. Non è questo l'unico parametro utilizzato dal Ministero della Salute per identificare le zone gialle, arancioni e rosse e le relative restrizioni, ne esistono altri 20, ma di certo è uno dei più significativi poiché rappresenta il tasso di trasmissibilità del virus. Come anticipato, Como è la zona rossa della zona rossa, la provincia con il valore assoluto più alto, 1,93. Seguono Bergamo 1,72, Varese 1,65, Brescia 1,64, Lecco 1,61, Mantua 1,60, Monza e Brianza 1,55, Cremona 1,45 e poi Lodi, Milano con 1,36, Sondro e Pavia in coda con 1,22. Sono i dati che la fondazione Bruno Kessler fornisce alla cabina di regia del Ministero della Salute. Gli stessi, utilizzati dal Comitato Tecnico Scientifico per determinare il livello di rischio nelle regioni italiane.